Un appuntamento importante per l'Emma Villas, un workshop dedicato alle aziende. Quanto è utile, quanto è importante un incontro del genere? Molto importante perché specialmente per il incontro commerciale che è tre anni e mezzo, quasi quattro, è nata l'azienda dalle scene di altre due aziende e è stato un partner ideale in questi anni, sia a livello di immagine sia a livello commerciale. Quali sono le aspettative nei riguardi di un evento di questa portata? Un evento di questa portata, tanto faccio complimenti al Presidente e a tutto lo staff perché è importante per conoscere anche altre aziende e fare una sinergia di lavoro che secondo me è la cosa più importante in questo momento, una sinergia tra aziende per cercare di allargare gli orizzonti nel capo del lavoro. Voi siete uno sponsor di vecchia data, quindi siete vicino all'Emma Villas da diversi anni. Avete riscontrato una crescita anche come azienda in questo senso? Certo, noi diciamo che appena è nata il centro commerciale, siamo stati i primi, l'Emma Villas è stato il primo sponsor a cui siamo dedicati perché ci credevamo e ci crediamo tuttora. Su Siena che riscontro avete? Su Siena bisogna lavorarci, è stato passato da tutti a Siena anche perché noi la realtà è piccolina, ancora non è sviluppata proprio a tutto tondo e ci dobbiamo lavorare come tutte le cose, però sono fiducioso in un progresso. Grazie a tutti.